Un'avventura cominciata nel 2017 in occasione dei 40 anni della canzone Ti amo. Umberto Tozzi, 67 anni, e Raf, al secolo Raffaele Riefoli, che di primavera ne ha compiuti 59, sono giunti a Verona per annunciare il prossimo 25 settembre il concerto d'addio all'arena dell'avventura entusiasmante di questa strana coppia, che però per impegni personali cessa di esistere, con più di qualche rimpianto. Quello che abbiamo vissuto in questo tour bellissimo è stato il grande coinvolgimento che siamo riusciti ad ottenere del pubblico che è venuto a trovarci. L'arena penso che sarà veramente un momento esplosivo, anche perché già di per sé è uno spettacolo, il teatro dell'arena, e sarà sicuramente un momento emozionale per tutti, non solo per il nostro finale del tour, ma sicuramente per il pubblico che ci aspettiamo, che venga a partecipare a questo momento veramente molto emozionante della nostra carriera. Non abbiamo pianificato nessun altro concerto insieme, perché abbiamo degli impegni personali ognuno di noi, quindi questo è l'ultimo concerto di questo tour, che lasciamo con un po' di nostalgia, con la lacrimuccia, perché Umberto ha detto che porterà con sé un cartonato mio nei prossimi concerti. Io non so cosa farò, forse metterò in scaletta un po' delle sue canzoni per avere un po' di Umberto anche nei miei prossimi concerti, ma purtroppo da qui nei prossimi anni non credo ci sarà più un'altra occasione del genere. Quindi veramente questa a Berona è un'occasione unica da non perdere a chi piace, voglio dire a tutti quelli e per tutti i nostri sostenitori.